Che Nissan Leaf elettrica sia in grado di dribblare il traffico cittadino e non si fermi mai davanti a blocchi, zone a traffico limitato e targa alterna è già noto. Ma che sia il più divertente e fast shuttle a zero emissioni anche all'interno di un aeroporto ha sorpreso tutti, inclusa la Roma, partner del progetto Nissan Zero emissioni per la capitale. Per esaltare le caratteristiche uniche di Nissan Leaf è stato realizzato un video adrenalinico con protagonisti campioni della S-Roma, Edin Zeko, Federico Fazio, Wojciech Szczesny, Nadia Langolan e l'ex pilota di Formula 1 e di Formula E, Tonio Liuzzi. Langolan arriva in aeroporto con uno dei numerosi taxi 100% electrici Nissan Leaf dove i suoi compagni di squadra lo attendono all'imbarco per una trasfetta di campionato. Essendo in ritardo, il centro carpista sale a bordo dell'unica vettura elettrica di serie al mondo presente all'interno di un aeroporto, Nissan Leaf, che dribbla gli ostacoli e raggiunge il gate in tempo grazie alla guida sportiva di Tonio Liuzzi, per l'occasione driver 100% elettrico. Il risultato è emozione pura, una corsa mozzafiato con adrenalina e divertimento, proprio come le prestazioni silenziose e a zero emissioni inquinanti del veicolo 100% elettrico più venduto al mondo Nissan Leaf. Il video rappresenta una delle iniziative di Electrified World, una compagna ideata da Nissan per sensibilizzare il pubblico sui temi delle zero emissioni in linea con la filosofia della Nissan Intelligent Mobility, per una mobilità del futuro più sostenibile, sicura e connessa con il mondo circostante.